Buonasera, buonasera a tutti. Accolgo molto volentieri l'invito di Andrea Terincanti e del Museo del Territorio di Riccione di presentare un libro, un libro che è stato importante per la mia formazione e che forse è stato uno degli stimoli che mi ha spinto a diventare un archeologo, un archeologo medievista. Sì, il libro di Riccardo, curato da Riccardo Franco, il CPM è uno dei libri più importanti e peraltro di recente ho potuto anche indicarla ai miei allievi perché in questo momento in cui non si riesce ad accedere al biblioteche non tutti possono reperire tutti i volumi che sono necessari per preparare gli esami, soprattutto su web, a parte quelli open access in realtà dalle biblioteche non si può più accedere. Allora questo libro invece adesso è interamente scaricabile online in pdf in maniera gratuita e quindi dopo eventualmente posso anche lasciare il link in modo che lo possiate consultare. È un libro che è stato scritto, pubblicato per la prima volta nell'87 dalla nuova Italia scientifica, una casa editrice secondo me molto importante per l'archeologia in generale, è quella che ha pubblicato la traduzione italiana dei principi della storia archeologica di Joel Harris con quella introduzione straordinaria di Daniele Manacorda, quindi una casa editrice molto importante che si sviluppa poi dalla nuova Italia, è una costa della nuova Italia e poi trasformata da Carocci nella sua casa editrice dal 98 in avanti, mi pare, sempre con l'intenzione di pubblicare saggi accademici. Questo volume è una raccolta di saggi, ve lo faccio vedere, con una copertina straordinaria molto molto vesica, che raccoglie saggi di storici e di archeologi. Sono storici veramente importanti, archeologi tra i più importanti del nostro panorama accademico, non soltanto italiani ma anche di altre nazioni. Per fare questo volume Francovi ci ha proprio chiesto agli autori di alcuni saggi di tradurre, alcuni dei loro prodotti, di raccogliere proprio con lo scopo di formare uno strumento, una specie di manuale per i suoi studenti dell'Università di Siena e poi un libro che è stato utilizzato da molti altri allievi anche nel corso del tempo. Tra questi vi sono appunto studiosi come Otto von Essen, come Cristina Rocca e Peter Hudson, che introducono uno dei primi aspetti dell'archeologia medievale italiana, cioè quello delle popolazioni germaniche che entrano in Italia verso la fine del VI secolo, nel 568, i Longobardi, e quindi descrivono un po' quelle che sono le tradizioni di queste popolazioni nel loro stanziamento in Italia, sia all'interno del territorio, sia nelle città. E poi c'è un paragrafo, un libro, un paragrafo dentro il libro molto importante, che è quello scritto da Richard Hodges e David Whitehouse, che è Il Mediterraneo e l'Europa nell'alto video. Per me è stato un saggio davvero estremamente formativo, è una sintesi di un lavoro molto più ampio, fatto appunto, scritto nell'83, di Mohammed Charlemagne and the Origins of the Europe, cioè un libro in cui si descrive un po' il rapporto tra l'impatto delle conquiste arabe e il Mediterraneo, e le trasformazioni del mondo mediterraneo e la nascita dell'Europa. Secondo me è un saggio straordinario, molto importante, e che peraltro ci porta anche a tutta un'altra serie di volumi importanti. Secondo me in questo articolo vengono affrontati per la prima volta in maniera didattica, efficace per gli studenti, anche questo tipo di controversa natura delle origini, della conquista musulmana, però ci sono chiaramente tantissimi altri volumi importanti su questa tradizione e secondo me è uno dei lavori recenti, proprio pubblicato dalla Carocci, pochi anni fa, è il libro di Christophe Picard, che è Il mare dei califi, che secondo me è anche un altro libro molto importante, che appunto affronta il rapporto degli arabi nel Mediterraneo, che faccio vedere la copertina, edito da Carocci, è una traduzione anche questa del libro di Picard, e secondo me è un altro saggio molto importante, anche questo io lo consiglio spesso ai miei allievi. chiaramente questo, quel filone dell'archeologia che ha al suo interno il fascino dell'Oriente, il fascino del rapporto con il mondo orientale, è un po' quello che ha portato studiosi di tutti i tempi, peraltro quest'anno ricorre proprio il centenario, secondo me, della scrittura di uno dei libri su questo più affascinante, che è quello dei Sette pilassi della saggezza di Lorenz, che è stato scritto prima, poi dopo il manoscritto si è perso, è stato riscritto un'altra volta tra il 19 e il 20, quindi la sesura finale in realtà del suo lavoro, I Sette pilassi della saggezza di Lorenz, Lorenz d'Arabia sostanzialmente, edito, riedito, stampato da Bompiani anche questo pochi anni fa, chiaramente che racconta, e questo è un romanzo straordinario, un'avventura nel deserto di Lorenz d'Arabia, che era uno studioso, è stato uno studioso di archeologia, si è laureato ad Oxford, ha fatto una tesi proprio sui castelli, una tesi magistrale sui castelli dell'Oriente, insomma anche su teorie, anche molto rivisitate, però invece in questo libro, un libro lunghissimo di 750 pagine mi pare, dove appunto si racconta proprio un'avventura nel deserto, in cui lui cerca di riunire le popolazioni arabe per sconfiggere i turchi, quindi alla base poi anche della primavera mondiale, quindi un libro davvero straordinariamente avventuroso, che poi è descritto nel bellissimo film del 62, pubblicato appunto, edito in Italia, mi pare solamente nell'anno successivo, nel 63, che se non ho capito male ha ispirato anche Cardini nel suo filone di ricerche poi verso l'Oriente. Ecco, quindi diciamo molti spunti ovviamente vengono fuori da questo libro, sono tantissimi, io solamente raccolgo quelli che mi sembrano più efficaci per la mia formazione, poi ovviamente voi potete leggerlo e farvi la vostra idea, anzi vi invito caldamente a farlo. Un altro articolo secondo me, un altro paragrafo importante di questo libro è quello sulle trasformazioni della città alto medievale, che è scritto da Brian Warperkins, anche in questo caso si tratta di una trasformazione di un suo contributo poco precedente alla stessura di questo libro, alla raccolta di questo libro, e anche qui appunto Warperkins Warperkins descrive quelle che sono, secondo lui, le più importanti trasformazioni nel passaggio dall'antichità al Medioevo, con gli scavi condotti in alcune delle città più importanti in questa tradizione di studi, che poi si è sviluppata notevolmente negli anni successivi, anzi già in quel momento aveva una fase di grande crescita all'inizio degli anni Ottanta, con per esempio i grandi progetti della pittà Balbi, con i lavori su Pavia, su Brescia e su tante altre città italiane, una disciplina che però ecco da quel momento in poi si è sviluppata notevolmente. E andando avanti, sì, sono raccolti in questo lavoro anche importanti lavori di alcuni storici, come ad esempio Chris Wickham, che parla delle dinamiche dell'insediamento rurale nell'Italia centrale, Chris Wickham, uno dei più grandi storici di medievisti europei, internazionali, che ha lavorato moltissimo con Riccardo Francović e anche nel progetto di San Vincenzo al Volturno, lavorando sul cronicon volturnense, a fianco poi dei lavori di scavo della fine degli anni Settanta, inizio degli anni Ottanta, nel monastero di San Vincenzo al Volturno, diretti da Richard Coaches. Poi c'è un lavoro di una nostra collega, di una collega dell'Università di Bologna, Paola Galetti, che parla delle strutture domestiche in ambito rurale, la casa contadina nell'Italia padana, poi c'è un tema che la studiosa ha affrontato in altri volumi molto importanti, proprio sulle forme delle diverse abitazioni, sia in Italia, sia in il resto d'Europa. Un altro aspetto essenziale raccontato all'interno di questo volume, anche se questa parte della disciplina era veramente agli inizi, dicevo, nell'87 l'Archeologia Medievale era davvero ai suoi albori, era nata da pochi anni, nel 74 forse è il primo volume della rivista Archeologia Medievale, ma agli inizi degli anni Settanta più in generale si collocano ai primi grandi lavori proprio nel campo di questa disciplina, soprattutto a livello accademico, proprio portati avanti da Riccardo Franco. All'interno di questo volume è raccolto il contributo di uno dei più grandi studiosi della cultura materiale nel Medioevo, che è stato proprio alle origini della nostra disciplina, della disciplina dell'Archeologia Medievale, che è Tiziano Mannoni, che descrive in questo volume gli aspetti della produzione ceramica, soprattutto in Liguria. Questo è solo uno dei tanti contributi che lui ha scritto nella sua carriera, nella sua carriera straordinaria, proprio con un approccio materialista incredibile, e secondo me Tiziano Mannoni insieme a Enrico Giannichetta hanno scritto davvero uno dei pilastri più essenziali per la nostra disciplina, cioè che è l'archeologia della produzione, questo volume edito da Enaudidi, è un lavoro incredibile. Davvero questo forse a livello ideologico è uno dei più importanti, pubblicato nel 1996 ma ristampato diverse volte, è un manuale molto complesso, davvero scritto con una intensità straordinaria, piena di spunti, è davvero forse uno dei lavori più importanti che sia stato mai scritto nella nostra tradizione degli studi. Io consiglio spesso ai miei studenti che sono interessati alla cultura materiale di studiarlo, anche se devo dire che è sempre più complesso per il loro bagaglio di formazione e affrontarlo, ma è davvero un libro straordinario, ecco questo non è disponibile in open access, però appena si ripotrà uscire, vi consiglio assolutamente di andarlo a comprare e di leggerlo. E poi sono affrontati i lavori su altre categorie di oggetti, di altre categorie di materiali, sui vetri, di cui scrive Sergio Nepoti, un altro grande studioso della cultura materiale, in questo paragrafo si occupa dei vetri degli atelier bolognesi, anche sul profilo delle fonti scritte, quindi mettendo insieme quelle che sono le informazioni che si raccolgono dalla documentazione cartacea, dalla documentazione scritta e anche dall'osservazione diretta dei materiali. Poi abbiamo un lavoro, e anche questo veramente importante, sullo studio dei metalli, metalli di due ripostilli, un alto medievale, uno dei decenni, intorno al 1000, che sono stati recuperati sempre sul finire degli anni 70 a Villa Clelia, a Imola, è un contesto archeologico importantissimo, e in questo caso vengono analizzate appunto in maniera molto analitica quelli che sono appunto gli oggetti rinvenuti in questo deposito, che mostrano quelle che sono anche alcune delle innovazioni tecnologiche più importanti della metallurgia, ma soprattutto delle capacità agrarie delle società medievali. Sostanzialmente si descrive anche l'introduzione dell'aratro, dell'aratro con appunto l'uomo nella trazione, che è uno strumento molto importante, che trasforma veramente quella che è la capacità tecnica di coltivare la terra, che è una delle appunto ragioni delle grandi trasformazioni economiche anche del mondo europeo. Poi c'è un altro articolo, un altro paragrafo scritto sulla storia dell'alimentazione, a partire da resti organici e dalle fonti scritte, che è scritto da Maria Ginatempo, e un capitolo che raccoglie una serie di saggi, sono tre saggi, quello finale, sulla pratica archeologica. Ce n'è uno di Daniele Manacorda, vi avevo già parlato di lui nell'introduzione del libro di Harris, ma in questo caso si sofferma su alcuni aspetti del rapporto tra archeologia e architettura, non tanto su quello che è l'archeologia straticafica nel deposito sepolto, ma proprio di quello che è il rapporto tra l'archeologia e gli alzati. che descrive questo rapporto agli inizi proprio della sua nascita, che chiaramente ha un'importanza molto forte nel studio degli alzati nell'archeologia medievale, e qui è veramente forse uno dei primi saggi. Tiziano Mannoni è stato uno dei più grandi studiosi di questi aspetti, di quelle che sono appunto il trasferimento delle conoscenze dell'archeologia stratigrafica nel deposito sepolto negli alzati, e Daniele Manacorda racconta l'esperienza di questo tipo di pratica nel cantiere urbano della Ghittabalpi a Roma. E poi c'è un altro paragrafo scritto ancora da Hodges, questa volta su una scoperta, proprio sul fascino anche della scoperta di questo complesso monastico fondamentale per la storia europea, che è San Vincenzo al Volturno, un cantiere che è stato poi portato avanti per diversi anni, che è diventato un'area archeologica molto importante, al centro anche di esposizioni di carattere europeo straordinario proprio dei recentissimi anni, anche portato avanti da Federico Marazzi, dopo l'avvio degli scavi, la pubblicazione di numerosi volumi di queste ricerche della British School of Rome, dirette proprio da Richard Hodges. E conclude il volume, conclude questo libro, un saggio di Frankovich, che racconta una delle sue più importanti indagini archeologiche, che sono appunto quelle che sono state condotte nel castello di Rocca San Silvestro, un castello appunto con vocazione mineraria, che è forse uno dei luoghi più riusciti della sua indagine archeologica, della sua ricerca, appunto incentrata prevalentemente sui castelli, già dalla sua tesi di laurea, e poi anche nelle sue fiorentissime ricerche che ha portato avanti in tutta la Toscana, sui siti fortificati, sui villaggi fortificati alto medievali, sull'origine di questo tipo di insediamento, sulle sue trasformazioni. Forse uno degli apporti più importanti di questo straordinario ricercatore, che è tragicamente scomparso nel 2007, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra disciplina, e che quindi attraverso questo lavoro, che è una raccolta di disagi, secondo me ci parla ancora, e vi consiglio davvero di affrontare questa lettura, e vi ringrazio per l'attenzione, e saluto tutti quelli che mi hanno ascoltato in questi 18 minuti, mi pare, di registrazione. Arrivederci, a presto, magari in presenza.